Con uno sguardo limpido ed un cuore puro siamo chiamati come discepoli piccoli, umili e semplici a ricalcare le orme del Signore Gesù. Egli chiede un cuore libero, un cuore capace di amare senza chiedere nulla in cambio, nella gratuità. E se questo cuore sa dilatarsi verso i fratelli, allora anche il tuo sguardo sarà uno sguardo limpido, che sa trovare dentro al cuore degli altri il bene, la bellezza, l'amore. Marco dice che Dio opera meraviglie attraverso ogni persona che sa davvero fare spazio dentro al proprio cuore, dentro alla vita, all'amore. Sa lasciare che le dimensioni della propria vita siano guidate e sorrette dall'amore, senza troppi intoppi, senza troppe rebriglie. E se uno compie il bene, compie delle cose buone, belle, e non fa parte del nostro gruppo, non fa parte di una elite, tante volte considerata tale, quest'opera da lui compiuta è un'opera bella e preziosa. Il discepolo allora riconosce attorno a sé le cose belle e preziose che sorprendentemente lo spirito realizza. E questo credo che sia una cosa bella che dica la nostra libertà di discepoli nel saper cogliere il bene, l'amore, la preziosità delle relazioni che sono attorno a noi, indipendentemente da. E questo allora fa del discepolo una persona amabile, perché? Perché è libera, perché sa cogliere il bene, il buono che c'è attorno, che vive attorno a sé, che non è esclusivo, ma che è capace invece di dilatare il cuore e le relazioni verso tutto ciò che di bello e di buono sorge attorno a noi, nella realtà dove viviamo quotidianamente. Il discepolo allora, se ha questo cuore, avrà uno sguardo anche capace di intravedere dentro alla realtà, ecco, la bellezza dell'azione dello spirito. in un atteggiamento di libertà. Dice, se il Vangelo ci ricorda che se qualcosa ci è di impedimento ad una piena, completa, appagante esperienza d'amore di Dio, ecco, lo dobbiamo togliere, lo dobbiamo estirpare. Se ogni cosa, se c'è qualcosa che ci impedisce davvero di questa vera, autentica, bella esperienza dell'amore di Dio, ma altrettanto, se a volte c'è di ostacolo la nostra testimonianza, siamo chiamati a toglierlo, a levarlo, perché la nostra vita sia davvero una vita guidata, sorretta, dalla vivificante presenza dello spirito. Spirito d'amore, spirito di libertà, spirito di accoglienza e di disponibilità. Nel vivere la nostra quotidianità, sempre informata dalla presenza dell'amore di Dio, dalla forza della sua parola e rinvigorita sempre dall'azione del suo Santo Spirito, che guida i nostri passi, di discepoli umili e semplici, nel saper cogliere la bellezza dell'amore e della sua presenza dentro al cuore, dentro alla vita, nello sguardo delle sorelle e dei fratelli che vivono accanto a noi, che incontriamo casualmente, a volte molto affrettolosamente, senza esprimere troppi giudizi e senza pensare in modo molto elitario, ma al contrario nel saper dilattare davvero il cuore verso tutti, così con molta semplicità.